bene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale allora ho appena presentato il metro lotto special però per chi avesse avuto difficoltà magari ad ascoltare il video non si ricorda la previsione o per qualsiasi motivo insomma fa difficoltà a ricordarsela la pubblico sul mio canale attenzione per il mese di novembre quindi fino poi alla prima estrazione dicembre compresa l'ambo secco unico dal metro lotto ambo eterno special e 14 16 questa è una previsione a tutte le ruote per la versione parziale gratuita che ho presentato sul mio canale youtube la terzina quindi ambo unico primario la terzina primaria e 14 16 84 ok i due terni quindi gli altri due sono 14 16 85 14 16 83 quindi giocheremo tutto questo a tutte le ruote quindi ambo unico e le tre terzine chi non riesce a giocare le altre due terzine giochi solo la prima che la primaria per avere informazioni su come avere il metodo completo io vi darò le ruote fisse su cui giocare gli abbinamenti per quaterna quindi attenzione perché nel 2023 questo metodo ha dato anche la quaterna ruota anche più di una quaterna contattatevi via whatsapp 348 75 47 715 per acquisire il metodo completo ne vale la pena non lo perdete perché questo è un metodo molto potente perché anche se ci dovesse dare una vincita grossa in un anno di gioco parlo della quaterna sono dei bei soldi quindi attenzione a non perdere il metodo completo comunque la giocata diciamo principale è questa giocata anche parziale perché ovviamente chi ha il metodo completo ma le ruote fisse potrà giocare anche la quaterna perché ci sono abbinamenti aggiuntivi per formare la quartina 14 16 quindi vediamo già se ci esce lambo è un buon risultato e queste sono le tre terzine con l'ottantaquattro terzina primaria mi raccomando al metodo completo con notatemi via whatsapp perché è un metodo assolutamente da avere al metodo assoluto.